Ok, chiamiamo Ninna e cerchiamo di tranquillizzarci Ha risposto, ha risposto Ninna Ninna Ma che cos'era? Avete sentito? Non mi sta rispondendo più Di nuovo Dai Ninna, ti prego Facciamo pace, io non riesco a dormire se abbiamo litigato Ninna, Ninna Ma dove sei? Ninna Ma scusami, ma a che ore sono? Ninna Ninna, ma sei in bagno? Non è nemmeno qui Dai, per favore, ti chiedo scusa, non avevo voglia di litigare Mi puoi perdonare ora? Ninna, ma dove sei? Sei nell'altro bagno? Anche questo bagno è a vuoto, ma perché? Dai, per favore, non ho voglia di giocare a nascondino a quest'ora Dove sei? Ma non c'è Non è nemmeno in salone Dov'è finita? Ninna Non è in nessun punto della casa Ninna non è in casa Io e Ninna abbiamo litigato oggi pomeriggio Abbiamo fatto davvero una brutta litigata Per dei motivi personali E non capisco per quale motivo lei in questo momento non è in casa La possibilità che mi stia facendo uno scherzo c'è Dato che è Ninna, la regina degli scherzi Secondo me è nascosta tipo nel palazzo e vuole solo farmi spaventare Andiamo a vedere Ninna, se sei nascosta nel palazzo non è affatto divertente Non risponde Proviamo ad andare su Lei, quando giochiamo a nascondino, si nasconde sempre in terrazza Vedete questo cartello? È un cartello che vieta di salire qui sopra Ed è per questo che Ninna ci si nasconde sempre Perché vuole farmi spaventare Ninna, ormai non funziona il tuo nascondiglio Ninna, ho detto che il tuo nascondiglio non funziona Capito? Il tuo nascondiglio non sta funzionando Oh mamma mia Guardate, ci sono delle scarpe, dei palivi, dei vestiti sporchi Ci sono dei rumori stranissimi qui Ok, Ninna non è qui Torniamo giù Mi sto iniziando a preoccupare Proviamo a vedere al piano di sotto Magari è nascosta al piano terra Ninna, ci sei? Sei qui? Non è nemmeno qui Non è che per caso si è messa sotto la scala Non è neanche qua raga È ufficialmente sparita Ok, devo essere sincero Adesso mi sta iniziando davvero a venire ansia Voglio vedere se ha preso la macchina Perché se ha preso la macchina la situazione è davvero pericolosa La macchina c'è Questo significa che Ninna è qua vicino perché non ha preso la macchina La cosa divertente è che sono in pigiama Capite? Sono in pigiama Ciò significa che dovrò andare in giro per la città a cercare Ninna In pigiama appunto Vi sembra una cosa normale a voi? Beh, a me no Assolutamente no Odio queste cose Odio queste cose Ma vi pare normale che Ninna scappa di sera e io la devo andare a cercare perché mi spavento troppo? Voi vi chiederete Vabbè ma chiamala Secondo voi non ho già provato Ci ho provato diecimila volte Ma Ninna a volte è così arrabbiata che preferisce scappare a darsene via senza dirmi niente Oh e se non la trovo che cosa faccio? Io ho la polizia Non lo so Fatemi pensare Devo capire qual è un posto in cui Ninna andrebbe la sera Vicino casa perché è senza macchina quindi a piedi Tanto sto girando in giro per il quartiere per le vie a caso come se Ninna fosse a passeggio di notte Un posto è sicuramente il supermercato Non l'avrete visto in altri video abbiamo un Carrefour aperto 24 ore su 24 vicino casa Un'altra è sicuramente la pista da bowling Ma Ninna non penso che vada a giocare a bowling da sola che abbiamo nella via praticamente a fianco alla nostra E poi ci sono tutti i ristoranti Abbiamo la pizzeria Abbiamo il ristorante Abbiamo il sushi Il McDonald Il McDonald potrebbe essere la mia prima scelta Dovete sapere che Ninna è da qualche giorno che mi ripete che vuole mangiare il panino del Mac E magari se lo sta mangiando in questo momento Ok prima tappa McDonald Auguratemi buona fortuna Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale Siamo al Mac ma Ninna non c'è Ma io un panino me lo prendo comunque Ma dove si è cacciata? E in tutto questo io sono anche in pigiama Per fortuna sembra una maglietta normale Ho bisogno di ragionare Ora mangio e poi continuo la ricerca Sono buonissime Ho bisogno di energia per cercare Ninna Intendevo tanta energia per cercare Ninna Giuro che ora parto Io non so dove cercare Non so che cosa fare Fuori è buio pesto E devo essere sincero Inizio ad avere anche paura Accostiamoci qua e chiamiamola Sentite? Io mi sono stancato Guardate che buio No io devo scendere e chiamare Ninna assolutamente Ok chiamiamo Ninna e cerchiamo di tranquillizzarci Ok sto chiamando Ninna in questo momento Vediamo che cosa dice Ti prego rispondimi 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 Ha risposto ha risposto Ninna Ninna Ma che cos'era avete sentito? Riproviamo a chiamare Riproviamo a chiamare Ok metto il viva voce così sentite anche voi Oddio io queste cose le odio le odio le odio Non risponde più Non mi sta rispondendo più Di nuovo Ma che cosa? Ok io sto iniziando seriamente ad avere paura Mettiamoci Ma prima che sia tardi Mi è venuta un'idea Visto che io e Ninna abbiamo litigato Forse lei sta aspettando che io faccia qualcosa per farmi perdonare Giusto? E che cosa vuole Ninna quando io devo farmi perdonare? Ve lo dico io Dei fiori Andiamole a comprare dei fiori E mandiamogli una foto su whatsapp Ok qui c'è il fioraio 20 euro Meno male che mi ero portato 20 euro per prendere qualcosa In realtà ne avevo portati 30 però ecco 10 li ho spesi per il McDonald's Scelgo loro le rose rosse Ragazzi abbiamo preso le rose Adesso non si vede assolutamente niente però vabbè Questi sono solamente dettagli E adesso io le vado a portare a Ninna Mamma mia sono troppo emozionato So che non mi state vedendo però guardate Le vado a portare a Ninna vabbè Gli mando la foto a Ninna nella speranza che lei mi risponda Se non mi risponde cosa faccio? Mezzanotte e 26 Queste sono le rose e facciamo una foto e inviamogliela Ok foto scattata Vediamo se ci risponde subito Me lo auguro Ok inviamo foto con rose Ok ho inviato la foto a Ninna Ce l'abbiamo Foto inviata ma non l'ha nemmeno ricevuta C'è solamente una spunta Non è che non ha visualizzato il messaggio Non l'ha nemmeno ricevuto Non ha ricevuto le rose Non ha ricevuto le mie rose Io non so più che cosa fare ragazzi Sono distrutto Voglio solamente tornare a casa e andare a dormire Non ce la faccio davvero più E' possibile che il suo iPhone sia spento? Il suo iPhone? Il suo iPhone? Trova il mio iPhone? L'applicazione? Aspettate 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 Dovete sapere che l'iPhone ha un'applicazione Che vi permette di trovare l'iPhone delle altre persone E l'iPhone di Ninna è collegato al mio Ok apriamo l'applicazione e Non mi resterà che raggiungere quel simbolo Vedete? Quello è il suo iPhone Quel simbolo Questo qua Questo qua E' il suo iPhone Quindi adesso io metto il navigatore e arrivo proprio lì Ce l'abbiamo Ok devo girare qui a sinistra Ok Ma dove ci troviamo scusate Ok giriamo qui a sinistra e vediamo un po' dove devo andare Aspetta ma perché il navigatore mi dice che devo andare al Carrefour? Ma questo è il supermercato! L'applicazione del telefono mi dice che l'iPhone di Ninna si trova esattamente qui Come è possibile che è nel supermercato? Vabbè andiamo a vedere Perché dovrebbe essere in un supermercato a quest'ora? Non capisco Qua non c'è nessuno Mamma mia mamma mia Non ce la faccio più Non c'è non c'è Perché la sua applicazione la porta qui? Completamente vuoto tra l'altro il supermercato a quest'ora ovviamente Aperto 24 ore su 24 Questa è l'unica speranza che ho Perché se ci pensate Potrebbe essere davvero un posto in cui Ninna è nascosta Un posto aperto 24 ore su 24 di notte Non so nemmeno io che cosa sto dicendo Ninna Cosa stai facendo qui? Sto comprando la Nutella Ma che cosa vuol dire comprando la Nutella? Senti io mi sono molto arrabbiata Ninna io sono tre ore che ti cerco Tre ore di più cinque forse Mi dispiace ma Ci hai cercato per tutta la città Ninna ma sei impazzita Ma non c'era la Nutella infatti Ninna non me ne frega niente Non mi piacciono queste cose a me Tu sei uscita di notte mentre dormivamo Per andare a comprare la Nutella Sì perché ero molto arrabbiata E dovevo mangiare qualcosa di dolce Guarda io non so che cosa dire Ma come ci sei arrivata poi fino a qui? A piedi Ecco ci sei arrivata a piedi? Bene Perché questo è il modo in cui tornerai Io me ne vado via Però compra la Nutella Ninna non sei divertente Quattro barattoli vanno bene